Buongiorno, sono Luca Balduzzi, sono qua a presentarvi la giornata di oggi. Iniziano i saldi a Clusone, abbiamo deciso di portare un po' di movimento. Con noi in Piazza Orologio c'è l'Associazione Storica della Città di Albino che riproduce un po' le ambientazioni, i personaggi che c'erano nell'antica Roma e nel Medioevo e in più per il paese c'è il clown Didimo che divertirà i bambini. Inoltre, fino a stasera alle 11, a discrezione dei commercianti, alcuni negozi terranno aperte fino a tarda serata. Buongiorno, sono Usubelli, presidente dell'Associazione Storica Città di Albino associazione che rievoca periodi storici, periodo romano e periodo medioevale. Oggi siamo a Clusone, invitati dalla Proloco. Eravamo già stati invitati nel mese di agosto e sulla scia dell'entusiasmo ci hanno invitato anche quest'anno. Oggi siamo presenti grazie al Tempo Bello che ci ha permesso di fare questa piccola manifestazione dove le nostre ballerine e i nostri cavalieri daranno spettacolo con qualche minuto delle loro esibizioni. Quindi ci saranno balli popolari e medievali e combattimenti in armi periodo medioevale. Riprende la giuotica! Riprende la giuotica! No, a giuotica! Riprende la giuotica! Allora là! Allora là, volevate! Vai, poi la bambina che si torna la base! Vai, la bambina, ti portiamo! Guarda! La campagna di uno! Guarda! Non c'è quello che sta fuori! Non c'è quello che si torna, ma non c'è quello che si torna. Ciao, sono Clown Didimo, ci sono anch'io al shopping festival, non so come si chiama, alla notte degli sconti, dei saldi. Dite ciao Antena 2! Ciao! Più forte! Ciao! Ciao Crusone! Ciao Crusone, grazie! Sono iniziati i saldi ufficialmente il 2015 e questa stagione stiamo aspettando, abbiamo appena iniziato, aspettiamo di iniziare questa stagione dei saldi che appena iniziata e dureranno fino al 5 marzo, primo giorno, adesso staremo a valutare un po' la situazione, come si verrà a creare. La stagione non è stata sicuramente una delle migliori, la speranza è quella di riuscire a recuperare in parte quel gap che abbiamo perduto durante la stagione normale, l'intenzione è questa. Adesso vedremo un po' se riusciremo a recuperare parte, perché è piuttosto difficile, la speranza, c'è magari un grande entusiasmo nei primi giorni e poi man mano subito dopo la situazione dei saldi si afflosce. La speranza è quella di poter dare un impulso in più, però chiaramente aspettiamo, tireremo le somme il 5 di marzo, tireremo le somme. Ho comprato qualcosa, ho comprato una felpa. Si è trovato bene? Sì, sì. Quindi saldi convenienti questo 2015? Sono iniziati i saldi, tutto bene. Allora come sono andati questi saldi? Bene, grazie, sono stato molto soddisfatto, ho trovato quello che cercavo, quindi molto bene. Saldi quindi convenienti in questo nuovo anno? Io ho trovato una netta differenza, sono venuto settimana scorsa per acquistare un piumino e i saldi sono stati rispettati. Non c'è stato nessun aumento dei prezzi, quindi veramente soddisfatto. Viva i saldi! Sempre!